iniziamo la demolizione del ponte della madonna dell'acqua vediamo un po cosa siamo in grado di fare vediamo un po cosa succede vediamo un po cosa succede iniziamo E' un'altra cosa Grazie a tutti. Vediamo un po' se riusciamo a tagliare questi travetti. Grazie a tutti. Travettino, tralala. Tiriamo un po' la pinza d'altro modo da non rimanerci nel mezzo. Vediamo un po' cosa succede, se casca o non casca. Caschi? Caschi o non casca? Casca o non casca? Buono, eh? Ok. Dobbiamo un po' tagliare i ferri di sotto. Sono anche di quelli, non mi dirai, 1950. Sono di quelli lisci, eh? I ferri. Ok. Non ho rifatto, non ho messo, eh? Vediamo un po' cosa succede qua. Ok. Vieni giù. Bravo. Allora, questa ringherina la prendiamo, eh? e la mettiamo lì, ma perché è rotolita? È proprio attaccato al mio culo. Vieni? Sì. Ringherina che sta in idanatana. Allora, allora.